Siamo con Anna Padovano Sorrentino, finanziamento aggiunto per quanto riguarda l'Eremo di San Martino. Spieghiamo a chi ci guarda lo stato dei fatti. È stata presentata una progettualità e quindi la richiesta di aderire a quelli che sono i fondi di rotazione. Siamo in un'ottima classifica e quindi con il prossimo flusso di risorse che andranno a finanziare questi investimenti ci sarà la possibilità di finanziare l'Eremo per l'importo di 850 mila euro. Questo è un risultato molto importante che ovviamente si deve completare con quello che deve essere il riconoscimento di un diritto di servitù su quella che è l'unica strada di accesso all'Eremo perché fino ad oggi ci sono state tutte una serie di difficoltà, però siamo agli sgoccioli nel senso che l'ufficio avvocatura ha curato tutta la pratica e io ho sollecitato in consiglio di portare o per il prossimo consiglio o a strettissimo giro la discussione nell'assise consigliare proprio per non vanificare quello che è stato l'impegno nel portare questa progettualità quindi nell'accedere ai fondi che fortunatamente ci sono anche finanziati.